Buongiorno raga! L'ultimo video che ho pubblicato ho parlato un po' delle mie popular opinions riguardo alla moda sostenibile e vi ho fatto vedere alcuni capi del mio armadio, però vi ho chiesto se vi interessa proprio un tour dei miei capi lo faremo senza blatterare di altre cose, magari blattereremo di certe cose ma non tantissimo ed eravate molto excited all'idea, quindi ovviamente chi sono io per rifiutarmi di farvi vedere i miei bellissimi vestiti e raccontarvi le loro storie, perché secondo me è quella la parte bella quando si compra soprattutto vestiti vintage, come si sono trovati, dove li ho trovati, quanto li ho pagati eccetera eccetera e sono molto excited, quindi credo che questo video sarà un pochino lungo, quindi bear with me non vi farò proprio vedere tutto 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 tutto, non vi farò magari vedere proprio tutto 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 però ecco cercherò insomma di non essere logoroi come al solito, anche se non vi posso promettere niente detto ciò, se siete nuovi qui, ciao, benvenuti, io sono Doina, benvenuti su questo canale che sto cercando di riprendere in mano se invece siete qui da sempre, grazie mille ancora per il sostegno, siete ancora qui se volete mi trovate sempre su Instagram, su TikTok, tutti i link sono linkati in bio ho un Etsy shop se vi interessa e ho un codice con la Wilde se vi interessa provare i loro prodotti ve li consiglio tantissimo detto ciò, passiamo al mio armadio allora, a parte i cappotti che sono all'entrata, che onestamente non farò vedere perché sono troppo pesanti e sono impacchettati belli dal dry cleaner e i miei pigiami e le calze, ma come ho detto le calze che io utilizzo sono le calze di Sheertex che le vi consiglio tantissimo, sono letteralmente indostruttibili perché non mi pagano per dire questo, ma sono adorabili questo è l'unico armadio che io ho, cioè tutti i miei vestiti sono qui e qua ci sono altre cose quindi, onestamente, non non mi considero una persona minimalista, come l'ho già detto anche nello scorso video ho tanti vestiti, non tantissimi però, onestamente cioè, secondo me, si potrebbe avere dei più, si potrebbe avere dei meno quindi, ho vestiti che però metto sempre ci sono tantissimi vestiti come le camicie che io metto in ogni stagione perché io non porto le t-shirt non l'avete mai vista con una t-shirt in palestra forse però non mi faccio vedere con quei vestiti in giro primissimo vestito, ovviamente, vi parlo di questo che è un vestito bellissimo che ho trovato su D-Pop e che ho fatto modificare aprendolo qua e aprendolo anche qui perché era molto sul collo questo vestito l'ho beccato alla bellezza di tipo 15 dollari, è lunghissimo bellissimo, mi ricordava molto un vestito che ha Arwen, il signore delle nelli e quindi l'ho comprato principalmente per questo lo adoro, ha maniche lunghe quindi mi piace molto per questo e questo è quello che indosso ho controllato bene non ci sono vestiti che sono nella lavatrice quindi tutte le cose sono pulite e pronte da far vedere direi di cominciare dalle camicie perché le camicie non ve le farò vedere tutte poi una che edita, allora raga ho scoperto che ho perso il footage mentre faccio vedere le camicie bianche come avete ben visto ho un sacco di camicie bianche quindi quelle non le farò vedere purtroppo perché si vede che non ho filmato si vede che ho stoppato pensavo che stava ancora filmando invece niente quindi non vedrete quelle non perché non volevo farvele vedere ma perché proprio non trovo più il footage pensavo che avrei diviso questo video in due parti alla fine sarà solo una parte quindi se per caso a un certo punto mi sentite dire nella prima parte avevo detto questo, questo, quest'altro è perché effettivamente alla fine ho deciso che il video sarà uno solo giusto per non rompervi i coglioni e guardarvelo tutto quando avrete voglia ecco quindi niente torniamo il video ho detto io indosso principalmente camicie quindi ne ho tante raga ne ho tante e credetemi la persona in me che odia stirare non è molto contenta di questa decisione detto ciò prima delle camicie però ho questa parte che sono i miei gilet che sono le mie veste i miei gilet da hobbit quindi iniziamo allora questo non è un gilet ma è un come si chiama allora questo non è un gilet ma è una cosa che si mette così no? per fare la royal yeah sì indosso questa cosa assolutamente senza problemi questo è più o meno lo stesso principio ma è un po' più flowy è molto elouise bridgeton questo infatti quando avevo fatto un video sui gli outfit di elouise in versione vintage avevo usato e lo adoro lo indosso tanto questo è la stessa cosa ma versione versione viola questo versione nera in realtà non è vintage l'avevo trovato usato però mi serviva una cosa nera per un vestito nero che ho non indosso il nero come ben sapete infatti vedrete ben poche cose nere però l'avevo preso per questo ma non è chissà che qualità ovviamente le cose vintage sono su un altro livello poi i miei panciotti da hobbit c'è questo vellino che si può usare anche in estate quando non ci sono 70.000 gradi come quest'anno poi ho questo con i bottoncini a cuoricino questo l'ho preso a Londra non è vintage però era second hand e mi piace tantissimo è veramente adorabile questo invece è molto da hobbit con questo alberello qua questo l'ho preso da mademoiselle vintage a Roma bellissimo stupendo lo adoro è quello che uso di più poi questo è coi gatti mi pare a non avere un gilet coi gatti raga scusatemi ma letteralmente questo è baromir ok poi ho questo qua molto obitoso verde stupendo questo l'avevo preso in Slovenia in un negozio pazzesco voglio tornare in quel negozio assolutamente questo è un altro gilet da hobbitino perché guardate che chiamino che è stupendo questo è un po' più cicciotto quindi lo uso quando fa più freddo e questo invece stavo pensando però di venderlo è molto carino ma non lo uso tanto quindi sto pensando di vendere ma mi piace molto questa parte invernale quindi ci sto ancora pensando dovete capire che io solitamente molti dei miei outfit invernali sono camicia e gilet sopra ecco perché ho tanti gilet e ho anche tante camicie solitamente io non metto tanto i pantaloni quindi vedrete pochi pantaloni nel mio armadio ho anche poche gonne in realtà però vabbè non importa premessa dovevo farlo all'inizio ma non importa nel mio armadio vedrete solo cose vintage principalmente qualche cosa second hand perché io da circa quattro anni ho deciso di comprare solo vintage perché è semplicemente lo stile che mi rappresenta di più e trovo veramente cose che mi fanno sentire meglio rispetto al semplice second hand dove comunque si trova tanta fast fashion e voglio anche dire che non trovate tanta non troverete fast fashion nel mio armadio per il semplice fatto che non perché io ho deciso di buttare via tutto il mio armadio di comprare vintage ma per il semplice fatto che negli ultimi comunque quattro anni io ho messo su peso magari per qualcuno non è tanto per qualcuno penserà che non sono cambiata per niente ma sono cambiata abbastanza il mio fisico è cambiato parecchio quindi tutti i vestiti che io avevo tipo cinque anni fa a un certo punto non mi sono più entrati o mi entravano e mi stavano da culo quindi semplicemente pian piano molti di questi vestiti sono stati regalati o donati o li ho modificati se mi stavano ancora li ho modificati per farli più vicini al mio stile quindi ecco perché troverete tanti capi che non potete trovare in giro nel senso che se mi chiedete dove ho preso questo dove ho preso quest'altro è tutta roba usata è tutta roba vintage quindi potreste trovare qualcosa di simile nello stile simile ma non ho veramente brand che brand fast fashion cioè ce ne sono veramente pochi e credo siano principalmente un paio di pantaloni che ho passiamo alle camicie particolari questa camicia l'ho comprata in un momento di mental breakdown vorrei dirvi che sto scherzando vorrei dirvi che l'ho pagata poco non l'ho pagata poco la adoro però la metto poco non so perché l'adoro è stupenda l'ho pagata un sacco dei soldi probabilmente non la venderò mai perché nessuno se la comprerebbe allo stesso prezzo che l'ho pagata però l'adoro dovrei metterla un po' di più non so perché non la metta questa l'abbiamo comprata per Etsy nessuno se l'è pigliata quindi me la sono tenuta raga perché cioè è stupenda c'è il fecchettino rosa ce la stiamo scherzando ok questa camicia fresca di dry cleaner la venderò perché è in seta è bellissima stupenda ha un colore pezzesco però raga la seta a me non piace la seta c'è gente qui che adora la seta ma a me non piace perché uno è fastidiosa cioè devo portarla dry cleaner se la voglio perfettamente stirata e tutto devo lavare la mano quindi I don't have time for this è stupenda però quindi la venderò ovviamente se nessuno se la piglierà me la tengo perché è veramente adorabile mi sta benissimo un'altra camicia che adoro è questa che è molto da vampiro pazzesca con queste maniche cioè raga io sono innamorata di questa camicia la metto poco perché non so mai con cosa abbinarla perché col pantalone mi sembra un po' di quasi offenderla metterla insieme a un pantalone e non ho una gonna adatta per questo quindi sto ancora cercando di capire come abbinarla quindi non la metto sempre ma è stupenda questo ovviamente sta nel normale non la decluttero questa è l'unica camicia che io possiedo che non è vintage e non è second hand ma me la sono fatta fare se ci sono dei fan di Stray Kids questa è la camicia di Mino di ottobre 2021 allora raga lo sapete che io non sono una persona da borsa non sono una persona da scarpe però c'ho qualche cintura tipo c'ho questa cintura bellissima comprata su Etsy tempo fa non ne ho tantissime perché non è che sono una grande fan delle cinture ho questa qua col cuore che è stupenda queste mi servono più che altro per i vestiti che hanno bisogno di stare un po' in hanno bisogno di essere hanno bisogno di un accessorio poi c'ho questa qua più corta però non sono una grande fan delle cinture neanche in questo caso non le amo tanto ma ne ho alcune perché per alcuni outfit c'è un po' di bisogno c'è un po' bisogno di cinture poi ho un cestino di corsetti se non mi seguite su Instagram se non mi avete mai visto hello mi piacciono tanto i corsetti li metto it's not a joke non è che li metto solo alle fiere medievali o robe del genere li metto veramente e ci sono alcuni di questi corsetti che sono la vita questi sono tutti artigianali perché trovare i miei corsetti nel vintage non è così facile onestamente quindi principalmente io mi butto sull'artigianale allora questo è l'ultimo corsetto che ho comprato comprato qualche mese fa è bellissimo scusate tipo la shape perché io li indosso poi li tolgo e poi vabbè però guardate che carino cioè questi colori sono semplicemente adorabili guardate che carino questi colori e poi tipo con te la texio è veramente chiudissimo la maggior parte dei corsetti li ho comprati solo li ho comprati dalla stessa persona anzi credo che i miei corsetti vengono da due persone e basta una persona che è questa che fa questa è un po' questa shape e capirete che è la stessa persona e l'altra invece che fa dei corsetti un po' più fichi e questa persona è in Quebec e fa questi corsetti carini sono un po' più corti dei corsetti standard diciamo però sono più comodi se c'è da metterli tutti i giorni ecco queste ha le fragoline quindi bellissimo questo qui è stato il mio primissimo corsetto che non è neanche quasi un corsetto perché non è non è duro non è niente è quasi come un panciotto e questo stavo pensando di venderlo perché secondo me non lo uso abbastanza proprio perché è così verde intenso e siccome ne ho anche altri di simili tipo questo ovviamente sia chiaro raga queste sono cose che io non ho comprato tutti nello stesso giorno ma sono cose che ho avuto negli anni e i corsetti fichi che questa persona pazzesca fa sono questi qua raga questi sicuramente se mi seguite su Instagram li avete visti addosso tantissimo ma anche gli altri ce l'ho anche in versione blu e in blu secondo me è ancora più bello è proprio tipo urla royal a mio parere cioè ok scusatemi ok lasciamo stare lasciamo stare quest'estate non ho messo tanto i corsetti raga perché si crepa di caldo si crepa di caldo e adesso invece passiamo ai vestiti secondo che i miei vestiti sono organizzati tipo circa per colore quindi si parte dal viola blu verde eccetera rosa bianco poi ci sono le cose invernali da quest'altra parte quindi siete pronti per vedere la maestosità di questo armaggio perfetto prima di tutto ho questo completo che ha dei pantaloni assolutamente pazzeschi quando ho trovato questo completo al thrift store e veramente l'ho pagato un niente ero tipo spero mi entri perché in quello thrift store non si possono provare le cose l'ho comprato sono arrivata a casa mi entrava e mi era perfetto ed ero tipo oh my god praticamente questi sono i pantaloni sono larghi hanno questa cosa trasparente qua è una cosa anni 80 sono stupendi lo so che non si capisce molto dalla foto però fate conto che riprendono questa stoffa qui sui pantaloni sul davanti è meraviglioso cioè quando lo indosso mi dicevo un sacco di complimenti sempre poi passiamo ai miei danni finanziari ovvero i selkie dresses allora per chi non sapesse cosa sono i selkie i selkie selkie è un brand di vestiti tipo super mega principeschi questo brand è andato tipo virale credo in mezzo alla pandemia se non mi sbaglio non credo sia un brand super vecchio principalmente perché a parte facevano questi vestiti super mega super mega principeschi ma anche perché sono super inclusive per quanto riguarda le taglie ovviamente i loro vestiti costavano parecchio ma adesso costano ancora di più io ovviamente tutti i selkie che vi farò vedere sono second hand li ho paghicchiati però sono troppo belli raga cioè sono troppo belli ovviamente posso dire non vale la pena comprare le nuove perché i prezzi sono veramente esagerati but they're worth it perché sono sono semplicemente stupendi ok quindi questo è stato questo è tipo il primo selkie che loro hanno fatto è tipo il classico che hanno bellissimo l'unica cosa raga è che è super trasparente qui io non lo sapevo quindi adesso mi sono dovuta comprare il boop tape se no mi si vede tutto questo vestito invece l'ho comprato tipo 4 anni fa e l'ho fatto modificare perché 4 anni fa quando l'ho comprato la stoffa che aveva sotto era perché quando l'ho comprato 4 anni fa questa era la stoffa che avevo che era tutto della stessa stoffa ed era midi tipo midi dress però io volevo qualcosa in più quindi l'ho fatto accorciare e poi ci ho messo questa cosa trasparente qua mi piacciono un sacco le maniche e questo per esempio è il vestito che io indosso sempre con il corpetto blu e ogni volta che lo indosso la gente pensa che sia un vestito tutto insieme quando in realtà è questo è il corsetto e io lo adoro tantissimo cioè non è un vestito che ho pagato tantissimo non è un vestito e credo sia stato fatto a mano però lo adoro perché è super comodo in estate faccio una bella figura se siete fan degli Stray Kids questo è il vestito che io chiamo Ordinary perché è blu e verde non lo so mi ricorda l'album Ordinary che è uscito nel 2022 questo blu è un blu bellissimo cioè dalla fotocamera non rende ma è stupendo questo è un vestito che ho fatto modificare perché quando l'ho comprato era troppo grande avevo una shape strana ma è bellissimo ovviamente è vintage ed è uno di quei vestiti che magari metto più se ho una occasione speciale però adesso non ho ancora avuto occasione speciale ma sapete cosa forse lo metterò alla mia laurea a luglio per chi fosse qui da tanto tempo e si sia beccato tutto il mio dramma con l'università di Montreal ho finito raga ho finito quindi mi laureo alla seconda magistrale tra un mese circa adesso ci rimane solo il dottorato che bello questo è un vestito che ho preso in Slovenia sempre in quel negozio lì dove ho preso anche quel panciotto verde ed è un vestito in lino austriaco di questi di questi brand super austriaci super super ragazza di campagna ma è bellissimo raga lo indosso così tanto in estate non mi serve altro perché è super comodo è super leggero è in lino quindi lo adoro tantissimo non lo stiro quasi mai quindi è è quel lino che non ci litico questo è un altro vestito che ho da un sacco di anni credo di vercelo dal 2020 l'ho comprato da uno shop in Italia quando ero in Italia lo adoro perché è lungo è comodissimo è in cotone e c'ha le maniche lunghe raga e poi se vuoi puoi metterlo sulle spalle quindi non c'è niente di meglio cioè io questo vestito veramente l'ho consumato tanto che cioè si vede un po' che è consumato non tantissimo però si vede comunque che è consumato perché lo adoro cioè lo metto veramente tantissimo questo è un vestito che ho preso l'anno scorso stile molto enultini l'ho preso sempre austriaco queste cose qua però sono molto onesta quando lo metto non mi fa impazzire non mi fa impazzire è solo comodo è in cotone super bello per l'estate ma non mi fa impazzire non so ancora se lo terrò veramente tanto in armadio però mi dispiace anche svenderlo perché questo vestito deve andare a una persona che ama questi tipi di vestiti e quindi I don't know yet però quando lo metto non lo so c'è qualcosa che non funziona secondo me è un po' troppo grande quindi sembra un po' strano però è bellissimo perché è comodissimo poi passiamo a un altro selkie allora raga è un quadro questo vestito è un quadro prima di tutto c'è le manche lunghe dietro hai le spalle scoperte praticamente non sono molto fan di questo perché la mia schiena non è bellissima però vabbè però raga è un capolavoro questo vestito ok sono innamorata tra tutti i selkie che ho preso incluso quello rosa bello lungo che vi farò vedere tra poco questo è il mio preferito cioè è veramente stupendo e quando lo indosso mi sento veramente in un quadro in un quadro mi sento pazzesca mi sento fichissima questo invece è il vestito che esiste con me da tipo 10 anni raga ok questo vestito l'ho comprato nel lontano 2013 ed era un vestito normalissimo da mercato letteralmente l'ho comprato al mercato da tipo 10 euro e non aveva le maniche tre anni fa ho deciso che questo vestito volevo tenerlo non volevo sbarazzarmi quindi ho deciso di aggiungersi le maniche di cambiare anche la stoffa qua perché era tutto rovinato e adesso è un vestito stupendo è un vestito che è passato tanto nel senso che è un vestito che mi ha accompagnato in Erasmus indossavo questo vestito quando lui mi ha chiesto di sposarlo indossavo questo vestito al matrimonio di un mio amico perché avevo cioè era perfetto eccetera cioè è un vestito al quale tengo tantissimo e se un giorno non mi entrerà più I don't care lo terrò lì perché è veramente tipo è il mio non lo so è il mio emotional vestito cioè è tipo uno di quelle cose che non vuoi sbarazzartene perché proprio significa troppo per te e sono contenta di averlo modificato e raga era un vestito da mercato questo non era un vestito costoso non era niente semplicemente avevo troppi ricordi legato quindi volevo tenerlo e di conseguenza l'ho modificato modificate i vostri vestiti mettiamo un po' di cose raga perché non posso vedere tutto a meno che io non divida questo video in due questo è uno di quei vestiti pigiamosi che io adoro tanto e questo da poco l'ho modificato perché le spalline erano strettissime tanto che quando l'ho comprato la ragazza mi ha detto guarda qualunque persona abbia provato a comprarlo mi diceva sempre che queste spalline erano troppo strette quindi non lo volevano ma io ho cambiato le spalline ovviamente ho messo le spalline più lunghe e quando lo mettete insieme c'è questo e questo qua sopra vi giuro mi sento Arwen mi sento Arwen del Signore delle Nelly perché è super flowy è super puffy è meraviglioso meraviglioso questo vente in vintage e quindi raga indossate i pigiami vintage che sono stupendi non ascoltate la società quello che vi dice adesso è un altro vestito che ho comprato quest'anno che ho modificato però perché era un vestito molto puffy molto cosa gli ho fatto togliere la puffiness gli ho fatto modificare un po' gli elastici perché gli elastici erano un po' persi e gli ho fatto modificare anche un po' l'apertura qua e adesso è un vestito bellissimo non l'ho ancora indossato quest'estate non so perché ma lo indosserò presto giuro perché è bellissimo è super comodo è super fluffy l'ho pagato una miseria ed è uno di quei vestiti che metti che senti una princess ed è l'unica cosa che per me conta onestamente questo è un Olga ok allora signora se guardi il video abbiamo preso questo a New York allora io avevo preso prima questo che è la lo slip dress però raga c'è qua è trasparente ok c'è qua quando lo indossi c'hai la panza che si vede bellissimo stupendo e quando sono andata a New York con Vittoria ho trovato la sua la sua robe Olga perché non sapesse è un brand che esisteva negli anni 70 se non mi sbaglio o anni 80 non mi ricordo e faceva questi questi slip dress e questi anche robe eccetera stupendi meravigliosi adesso sono rarissimi cioè non li trovi facilmente quelli che trovi costano la follia e questo vestito raga morirà con me perché questo è stato il vestito con cui ho visto gli Stray Kids la prima volta and that's not going anywhere questo ha valore solo per questo per questa cosa ha valore solo perché ho visto gli Stray Kids in prima fila con questo vestito addosso che mi fa anche delle belle tette questo è un vestito che ho comprato a 5 dollari raga non sto scherzando you know why perché praticamente l'ho trovato in un negozio vintage ma la signora aveva un angolino a 5 dollari perché ha detto c'è questa macchia che non capisco come toglierla e non si è mai tolta e quindi niente ma quando lo indossi non si vede perché le maniche sono così a sbuffo che non si non si vede niente ed è un vestito stupendo è un pochino trasparente ma è così leggero è così bello che quando lo indosso c'è veramente vi giuro stupendo meraviglioso e dietro è tipo così stupendo l'adoro ma poi 5 dollari raga ma mi pare 5 dollari questo è un altro vestito rosa che adoro tanto che solitamente metto con qualcosa sotto e sopra ci metto un corsetto soprattutto quello con le fragole anche questo è bellissimo è uno di quei slip dress insomma sono camicia da notte raga ma mi pare che fosse una camicia da notte io non si merita la notte una cosa del genere cioè ok questo deve uscire da qualche parte ed è meraviglioso soprattutto con questo colletto stupendo anche questo l'ho trovato in un mercatino vintage l'avevo pagato un pochino ma neanche troppo e lo adoro un'altra cosa rosa che l'avevo mai detto anche questo è un set di cose di vestitini di come si chiama anche questo è un set di slip dress e la cosa sopra ma dovete capire che io queste cose le metto come vestiti si vado in giro così raga si vado in giro così non succede niente non succede niente qualcuno mi guarderà male ma va bene lo stesso cioè excuse me vi pare che io metta questa cosa in casa cioè la gente deve vedermi ok questo vestito l'avete visto nell'ultimo video dove vi parlavo del fatto che la gente mi è minacciata per andare a farmelo prendere l'ho indossato l'altro giorno sono andata al cinema mi sa con questo vestito è bellissimo stupendo super comodo e l'adoro anche questo l'ho preso è vintage credo sia degli anni 60 o 70 no forse anni 70 questo è un altro selkissi raga ho quattro selkissi vi ho detto non sono stata financially responsible lately tutti second hand ovviamente ma anche questo ho messo delle foto l'altro giorno su instagram da gente mi ha detto oh my god si chiama tipo marie antoniette credo si chiama questo vestito questo è un po' più aperto qui ecco perché preferisco l'altro perché l'altro mi tiene le tette pronte là invece questo è un po' più aperto ma è comunque stupendo meraviglioso io sono una grande fan dei selkissi però ne ho quattro adesso basta basta selkissi perché io ho un employed adesso non te lo puoi permettere anyway il vestito mi ha comprato madre dalla moldavia l'anno scorso insieme alla camicetta perché questo è un vestito che insomma riprende tipo delle ricamature tradizionali e questo vestito lo adoro è super cute è super comodo ha questa cinturina così l'ho messo l'altro giorno sono andata a una fiera medievale e l'ho messo l'altro giorno ed è troppo cute l'odore e raga questa cosa ok questo credo sia stato tipo una cosa da sposa tipo un un pigiama da sposa cioè ma vi pare ma vi pare che una persona usi questo per andare in giro per casa sì se avessi un castello assolutamente e il vestito ovviamente è stupendo però le tette qua il seno era scoperto cioè era era trasparente quindi io ci ho fatto mettere una stoffa in modo da poterlo mettere tranquillamente senza problemi qui è trasparente quindi è molto bello perché mi si vede il tatuaggio di Emma quindi sono contenta ma questa è una di quelle cose che adoro non indosso abbastanza perché l'ho indossato l'anno scorso quando sono andata al Comic Con quando ho incontrato Sean Austin e Billy Boyd e vabbè però quanto è bello l'ho anche indossato al mio trentesimo compleanno questo vestito perché ho fatto un tea party ma questo è tipo un capolavoro è un capolavoro di roba l'ho presa su di pop e la ragazza lo vendeva tipo neanche tantissimo per essere questo questa cosa perché perché lo vendeva poco perché c'era tipo una macchia da qualche parte una roba del genere ma non so se ho mai trovato quella macchia e comunque dovevo tagliarle tagliarle un pochino dalla dalla lunghezza quindi boh stupendo raga stupendo questa è una delle cose che io amo di più nel mio armadio e anche una è una di quelle cose che non potrei mai dare via cioè significa troppo per me questo è un vestitino in cotone che ho preso che ho preso molto comodo perché ho detto ho bisogno di qualche vestito un po' basic per l'estate che sia in cotone che sia così però sempre con le manicozze che sia lungo questo è il mio genere di vestiti raga io non indosso cose con gli spaghetti straps io devo avere le maniche devono essere lunghi non indosso il corto quindi io devo sentire una principessa una daily basis cioè è questo è l'unica cosa che mi può fare sentire una principessa ecco perché io in inverno soffro cioè i miei outfit in inverno sono comunque pazzeschi they eat hard ma comunque in estate mi sento un po' più principessa proprio grazie ai vestiti questo è un altro vestito pigiamoso che adoro tanto cioè ho fatto modificare un po' perché era un pochino un pochino largo ma è giusto un pochino ma è adorabile avevo un altro simile ma l'ho dato una mia amica l'anno scorso quando sono tornata in Italia perché ho detto raga cioè non puoi comprare solo vestiti pigiamosi dai non devi smetterlo questo è un vestito che ho comprato tipo 5 anni fa il mio fisico era molto più bello di adesso ma mi entra ancora stranamente mi entra ancora non mi stava benissimo come mi stava 5 anni fa ma mi entra ancora ed è uno di proprio quegli vestiti di stile lo stile che piace a me quindi finché mi entrerà lo tengo ma lo volevo vendere a un certo punto proprio perché non mi piaceva come mi stava ma io devo smetterla di fare declutter di vestiti quando ho i mental breakdown sul fisico perché rischio di dar via un sacco di cose e mi è già successo che ho venduto delle cose di cui mi sono pentita meramente ok speriamo di non morire mi manca solo il primissimo selfie che ho comprato che è questo qui lungo mia madre quando l'ha vista ha detto ma dove mi inchiavai con questo vestito e io ho detto fare una spesa madre dove vuoi che vada è ovviamente un po' extra cioè non è un vestito di quelli che puoi mettere veramente sempre è stato il primissimo selfie che ho comprato ed ero troppo excited per poi capire che effettivamente è vero che non potrò metterlo tanto rispetto agli altri selfie che anche se sono extra sono corti sono un po' più comodi da portare questo è un po' meno corto questo è un po' meno comodo perché c'ha la cudina dietro però allo stesso tempo mi sono detta you know what prima o poi magari ci avrò un matrimonio da qualche parte oppure potrò andare a fare un photoshoot nella neve oppure semplicemente potrò metterlo un giorno per fare la spesa veramente per ammortizzare i copi posti questa è una gonna una gonna di lino molto bella onestamente la indosso troppo poco e stavo pensando anche di venderla a un certo punto però come sempre io faccio vedere cose che vorrei vendere la gente mi minaccia mi dice ma come ti permetti quindi ho deciso di dare un'altra chance cercare di metterla e farci degli outfit e se non la metterò mai abbastanza la venderò perché non mi piace tenere in armadio vestiti giusto per tenerli per dire sono bellissimi mi dispiace venderli e poi non usarli ecco quindi vedremo un po' questo colore non mi sta bene questo colore è assolutamente non il mio colore raga ma guardate le maniche ok 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 ciao non potevo lasciarla non potevo lasciarla ok l'ho indossata un sacco di volte quest'estate questa è una giacca di un brand full fancy degli anni 70 se non mi sbaglio ed è pazzesco raga questo è più più che un blazer è una giacca quasi ed è stupendo quando lo indosso mi sento molto count dracula quindi si ritorna molto alle mie origini dell'est mi sento proprio empowered by that questa è giacca in velluto degli anni 80 pazzesca raga io non indosso il nero ma questa giacca quando la metto cioè ok ok ce l'ho da un sacco di anni ce l'ho da tipo 4 anni credo 3 o 4 anni ed è stupenda la adoro e ya anche questo è molto simile a quello arancione con queste manicozze così ma con l'arancione è molto più bello questa l'ho presa proprio per avere un qualcosa di elegante io ho le cose nere proprio per avere un qualcosa di elegante per quando devo fare cose professional e questa è una cosa molto bella l'ho fatta modificare un pochino perché era troppo lunga mi sa se non mi sbaglio ah si ho fatto modificare qua perché avevo un altro colore e le ho fatto mettere la stoffa sopra perché si era tolto tipo perché era bianco si è tolto il nero e si è andato a sporcare non ho capito perché quindi ho detto la sarta please make me del nero così non succedono più questi incidenti questo blazer raga ok questo ve la devo raccontare questo blazer lo adoro tantissimo è in velluto credo sia degli anni 80 80 se non mi sbaglio non lo so 80 forse ed è questo colore blu stupendo meraviglioso questo è stato mi è stato regalato indirettamente dalla mia bestie perché lei mi ha mandato i soldi al mio compleanno quell'anno lì e io mi sono comprata questo 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 blazer allora vi racconto la storia di questo blazer quando ho iniziato a seguire i BTS nel lontano 2019 c'è il video di come si chiama non mi ricordo il video oh my god non mi ricordo la canzone di BTS praticamente c'è il video Blood, Sweat and Tears di BTS e Jimin ha una giacca blue velvet così raga io sono stata obsessed obsessed con quella giacca e mi ero messa a cercare nell'usato perché io già al 2019 compravo già usato compravo iniziavo a comprare vintage un po' come per la camicia di Mino che l'avete vista nella prima parte quella viola che me la sono fatta fare su misura perché ero così obsessed con quella camicia ma quella l'ho fatta subito e ciao questa non mi sono mai arresa raga tre anni dopo la trovo su su ebay mi sa che era ebay sì mi sa che era ebay la vedo vedo che le mie misure faccio I have to buy it quindi l'ho comprata raga è stupenda e solo per il fatto che sono stata obsessed così tanto tempo nel vintage è raro trovare questi colori così sgargianti poi il velvet non è così scontato ma raga c'è guardate ok no io quando la indosso mi sento proprio su un altro mondo mi sento Jimin in the BTS una mia amica mi ha regalato un'altra cosa simile ma questa l'avevo un po' più di tempo fa credo me l'abbè regalata nel 2020 è sempre in velvet ed è quasi un vestitino però io lo metto magari con qualcosa di corto e sopra sta super bene è molto bella perché ha questo colore molto bello mi piace un sacco il velvet raga l'unico problema è il fatto che li devo portare dal dry cleaner come tantissime cose vintage li devi portare dal dry cleaner quindi ti devi prendere cura un po' più decentemente rispetto alla fast fashion faccio cardigan della nonna tipo questi con lo scagliattolino ok che sono quelli invernali questo con fiorilline a caso e questo invece con la casetta ok questi sono i cardigan che io metto quando fa veramente tanto freddo cosa che l'inverno scorso non è molto successo abbiamo avuto un inverno molto dolce per i miei standard però sì questi sono cardigan ovviamente tutti usati sono quelli che tengono veramente tanto tanto caldo li indosso quando magari devo o andare a camminare molto fuori o devo andare da qualche parte e so che fa molto molto freddo queste sono le cose che metto metto una camicia e un cardigan questo è il mio completo professional perché ha la gonna corta la minigonna cioè la minigonna più o meno e questa giacca con questo ci ho fatto la mia seconda conferenza la prima conferenza ho messo il panciotto coi gatti perché dobbiamo parlare di Tolkien ma raga cioè ci stava molto questo invece l'ho messo quindi questo è uno di quei completi che io tengo più che altro per essere professional ma in realtà lo metto tanto l'inverno scorso questo coso l'ho indossato veramente tante volte è un altro completo raga che devo vendere perché purtroppo la gonna non mi sta anche la giacca mi sta ma meh ed è un completo veramente bello ouch è un completo davvero bello che non merita di stare chiuso in armadio quindi mi sa che lo venderò appena avrò un po' di tempo mi metterò a venderlo mi dispiace molto perché è stato un completo che mi è piaciuto tantissimo l'ho comprato solo due anni fa però raga il mio fisico non la smetti di cambiare mi sta sui coglioni quindi qui sono emotional ma questo è stato il primo capo vintage che ho comprato ever e ce l'ho ancora mi entra ancora ma insomma è un blazer perché io ho avuto il periodo blazer avevo un periodo in cui ero tipo blazer e pantaloni o jeans blazer I don't do that anymore però mi dispiace troppo venderlo perché è proprio uno di quei capi al quale sono troppo affezionata mi entra ancora quindi non è che tipo dice lo tengo lì perché non mi entra però non lo metto non lo metto da un sacco di tempo però è l'ormo baby questo l'avevo preso per lo show a pezzi ma ne sono se l'ha pigliato quindi me lo sono tenuto onestamente perché è molto cute mi sembra molto circus ed è un uno di quei beserini leggeri quindi lo tengo intanto questo è un altro blazer che ho preso a Bologna da Diorama Boutique molto carino questo colore non mi sta bene per niente raga ma è super adorabile questa giacca e lo metto parecchio onestamente ma se mi sta da culo questo colore lo metto parecchio raga questo questo è un completo coi pantaloni ok ok l'ho comprato per il mio shop Etsy poi l'ho indossato e ho detto I'm so hot though quindi non l'ho mai venduto e lui mi prende in giro perché dice che sembro a beetlejuice mi dice che sembro a beetlejuice ma te don't care perché probabilmente metterò questo alla mia conferenza di ottobre a Budapest si vado a Budapest raga per una conferenza accademica I'm a PhD a broke student però conferenza accademica raga un mio video uno dei miei primi tiktok è andato virale letteralmente solo per colpa di questo cardigan questo cardigan ce l'ho da 4 anni è il mio precious baby ok l'ho comprato da un negozio Etsy che non esiste più che faceva tutti questi chunky cardigan così raga è la cosa più bella che io possieda lo so che l'ho detto per un sacco di cose ma vi giuro sono così emotionally attached a questo cardigan con le fracoli che non avete idea non l'ho messo neanche tanto l'anno scorso perché si è passato dal caldo supremo al freddo quindi non ho avuto tempo ma lo adoro ok lo adoro l'avevo paghecchiato ma onestamente per essere una cosa handmade e si vede proprio che è handmade che è fatta bene eccetera non era neanche tanto e ogni volta che indosso questo cosa se faccio un video con addosso questo o se vado in giro la gente mi ferma mi dice sembra oh my god a me per la seconda cardigan e ya è proprio il mio baby a proposito di cardigan ho anche questo bellissimo con i funghiettini questi per esempio rispetto a quelli che vi ho fatto vedere prima è meno pesante quindi lo posso mettere anche quando non fa estremamente freddo e lo adoro tantissimo mi piacciono un sacco questi cardigan molto questi sono Austrian cardigans eccetera sono veramente stupendi poi vabbè se c'hanno funghiette ci sono cose basta io impazzisco ok anche questo ce l'ho da parecchio tempo l'avevo preso su Etsy e mi piace da morire ne ho un altro simile questo è molto più pesante è un po' più largo quindi lo metto solitamente quando ho magari le manicozze più grandi delle camice ed è molto bello e queste sono questo è uno di quelle cose che metto quando fa veramente tanto freddo o se non lo metto proprio come giacca in autunno quando è autunno lo metto se non piove top il mio maglione con le pocorelle ok questo l'avevo comprato a lui perché è grande è abbastanza grandicello ma lui non lo mette tanto quindi glielo ho rubato alla fine me lo sono preso e l'avevo comprato perché io c'ho questo con le mucchette volevo essere pandan ma niente lui ha deciso di non voler essere macci macci con me quindi me le sono tenuti tutte e due quanto è bello questo quanto è bello ok questo con le mucchette la cosa più bella che io possiedo lo so che l'ho detto per 50.000 cose don't get me c'è un altro cardigan che mi ha regalato una mia amica questo non lo metto tanto perché è piccolino è corto e quindi e pizzica un po' quindi devo avere qualcosa di più pesante per poterlo mettere ma tiene un sacco caldo però appunto quando me l'ha regalato era un po' più magra quindi mi stava meglio adesso invece un po' così però quando la gente mi regala cose soprattutto quando sono cose così preziose tipo robe vintage eccetera non mi piace venderle non mi piace regalarle ad altre persone mi sembra di cattivo gusto quindi sta lì nell'armadio magari prima o poi mi entrerà meglio mi starà meglio ma è veramente durabile perché tiene un sacco caldo è veramente molto molto piccino ma allo stesso tempo c'ha questi dettagli così carini so io e questo è un altro cardigan molto fluffy molto fuzzy questo tiene un sacco di caldo l'ho messo una volta che c'erano tipo meno 30 gradi ed ero e stavo benissimo questi bianchi così li uso un pochino meno rispetto ad altri perché non voglio tipo rovinarli quando vado all'università o roba così però li metto magari quando vado da qualche parte di carino o in inverno eccetera è molto cute poi raga vi faccio vedere in fretta ho questa gonna scozzese molto bella la metto tantissimo questi invece sono dei pantaloncini beh non mi fanno impazzire però vabbè me li ho regalati in madre le ho comprato tipo da Luisa Spagnoli quindi cose costose e anche queste sono di Luisa Spagnoli queste due le ho da un sacco di tempo le adoro ovviamente ero più magra quando le ho comprate quindi mi stavano un pochino meglio ma mi entrava ancora quindi va bene così e questa invece l'ho presa da Mademoiselle Vintage ed è una gonna che io metto tantissimo queste sono le mie gonne principalmente invernali per passare ai pantaloni appunto io non ho tanti pantaloni ho questo paio di pantaloni che ho preso a Londra insieme al panciotto con i bottoni al coriccino che sono molto obitosi hanno queste cose di cavallo sopra molto poco antispeciste ma sono molto comodi poi ho questo paio di pantaloni questo provene da un brand fast fashion ma sempre comprati usati ovviamente e sono comodi perché vabbè sono neri sono eleganti e poi sono hanno questa shape bella tipo larga come mi piace a me e quest'anno ho preso la versione bianca di questi pantaloni stessa cosa ma versione bianca sempre su di pot quindi sono usati e questi sono gli unici pantaloni che possiedo ah no aspetta ho due pantaloni estivi questi sono dei pantaloni tipo trasparenti così molto belli per l'estate li avevo comprati usati sono di un brand carino anche quindi vabbè e mi piacciono un sacco ah sì sono vabbè vabbè sono dall'altra parte ma insomma avete capito il vibe questi sono sempre pantaloni estivi un vibe pazzesco bianchi così quando non lo voglio di vestire non voglio essere comunque fica metto questi sono di un brand etico sostenibile questo brand purtroppo non esiste più ma avevo fatto una masterclass con la persona che era dietro questo brand quindi sono riuscita a prendere questi pantaloni mentre stavo facendo la masterclass mi aveva dato uno sconto così vabbè sono bellissimi li adoro ce li ho da tipo tre anni e voglio solamente mettere solo questi in estate quando siamo molto caldo e non lo voglio di vestire metto questo una camicia e sono top e mi sento proprio pazzesca e niente raga alcune cose non ve le fate vedere perché non erano importanti o non erano chissà cosa ma vi ho fatto vedere quasi tutto praticamente ci sono due slip dress che non vi ho fatto vedere ma non importano sono così importanti però spero che vi sia piaciuto spero che siete divertiti il mio gloss è sparito dall'inizio di questo video mi sono soffocata 50 volte spero che siete divertiti fatemi sapere cosa vi è piaciuto di questo video se c'è un capo in particolare e se avete visto anche la prima parte quali sono state le vostre cose preferite in generale tra prima e seconda parte so let me know noi ci vediamo alla prossima volta e ciao